Il Sceravi valuteremo oggi, speravo potesse allenarsi con noi per poter valutare una sua presenza in panchina, invece sembra che non stia benissimo, dispiace perché il Sceravi era in un ottimo momento, con la Lazio aveva fatto una grandissima partita, viene da un periodo di lunga inattività, si stava impegnando molto, mi dispiacerebbe perderlo, però se è così abbiamo una rosa che può sostituirlo, anche se dispiace per lui e per la sua continuità di rendimento.